I cartelli allo zoo più divertenti al mondo Gli uccelli cagano ogni 15 minuti Da quanto tempo è che sei lì sotto? Si prega di non buttare i mozzicoli di sigarette a terra In quanto i pesci di notte escono fuori per andarli a fumare E stiamo cercando di farli smettere Sulla sinistra troviamo animali che spaventranno i vostri bambini Animali che dormono tutto il tempo Adesso animali che si grattolano da tutte le parti Anche in posti imbarazzanti E animali che puzzano da morire Solo chi crede fortemente nella reincarnazione Può rischiare di avvicinarsi alle nostre tigri Ecco come appare alle nostre tigri Alle nostre tigri Tre tigri contro tre tigri Un bel ecchio di incoraggiamento vi prego ragazzi Fate attenzione Le tigri amano i bambini Ma non li digeriscono facilmente Quindi state alla larga Questa non l'ho capita bene Si prega di non far mangiare le dita agli animali Che vuol dire che vi mozzicano le dite Non sbattere sul vetro Se si dovesse rompere cosa farai giustamente Se non vuoi essere mangiato da una tigra Iniziamo a seguire